Ammiccante con i led a sostenere il design dei gruppi ottici, la nuova coda filante raccolta che incastona lo spoiler che si alza quando il piede comincia a farsi pesante sull'acceleratore. Tratti di un nuovo concetto automobilistico che anche Audi come Mercedes e BMW introduce all'interno della sua scelta. Un modo di concepire la berlina in chiave più sportiva per renderci sempre più conto che la funzionalità, le capacità di carico, il comfort e le prestazioni sono sempre più un to-to. In questa A7 Sportback notiamo anche un grande lavoro di affinamento dell'ergonomia degli interni con una qualità che viene arricchita da tocchi di design che seguono effettivamente la linea di purezza e continuità voluta da Walter De Silva. Vi sono poi tocchi ad effetto come gli speaker del DB e O che compaiono magicamente o i colori che si accendono di notte creando un'atmosfera abbastanza particolare. Le prestazioni sono ovviamente al centro del progetto Audi trazione integrale. Torque Vectoring è il nuovo elemento che aumenta il piacere di guida. Questo sistema di trasmissione è particolarmente flessibile e dinamico. A richiesta il differenziale sportivo ripartisce la forza motrice in modo attivo tra le ruote posteriori. Ne scaturisce una guida precisa dove l'inserimento della Bantreno è perfetto ed il retrotreno segue veloce anche se le dimensioni ed il peso della vettura non sono certo da auto sportivi.